Palla a volo femminile dopo il successo nel doppio confronto con Casal De Pazzi, la Tum Perugia sogna la semifinale promozione. Le Perugine affronteranno il Ravenna. Sentiamo Giulio Nardi. Momento chiave per la stagione della Tum Perugia Volley nel campionato di Serie B1 femminile. Il percorso playoff diventa sempre più interessante con le Perugine ad un passo dalla finalissima promozione. Adesso occorre ricaricare le batterie dopo il doppio confronto vinto con le lezziali di Casal De Pazzi. Significativa è stata soprattutto la vittoria ottenuta in casa su un campo notoriamente ostico dove il Casal De Pazzi aveva perso soltanto una circostanza nella regular season. Dunque è stato fondamentale vincere anche gara 2 al Pallevangelisti per evitare di tornare proprio a giocare in casa delle avversarie. Come ha sottolineato Capitano Aviporzio che ha voluto ringraziare nelle ultime ore il grande apporto garantito dal pubblico del Pallevangelisti. Non si giocherà però a Panni Massiano la prossima partita di ritorno della semifinale contro Ravenna. Infatti la gara è prevista al Palla Pellini proprio per la disponibilità dell'impianto del Pallevangelisti che sarà occupato da un concerto. La semifinale di andata è prevista per 24 maggio a Ravenna il 27 quindi si tornerà in campo proprio nel capologo umbrio per centrare l'obiettivo finale.